Se dovessi riassumere l'evento Sinergie, in una sola parola, questa sarebbe comunità. Sinergie è un format di contenuto che accoglie aziende ed agenti immobiliari e che si muovono in equilibrio in un mercato che è sempre in cambiamento. È da sei anni che lavoriamo per creare attenzione sulle priorità dell'agente immobiliare e lo facciamo attraverso un mix di contenuto di settore, ma anche extra settore con l'ausilio di speaker di altissimo livello che creano valore con la condivisione di esperienza, di dati e di visione. Sinergie è un appuntamento che non puoi perdere se vuoi essere parte attiva di una comunità professionale esclusiva, sempre in crescita, che può guidare il cambiamento, che può migliorare la percezione della professione nel mercato, che può dare stabilità e garantire crescita a proprio business. La sesta edizione si terrà tra pochi giorni, il 24 novembre, nella spettacolare cornice di Spazio 900 nel quartiere Eur di Roma. Tra i relatori di quest'anno ti ricordo Corrado Passera, fondatore di Limiti Bank. Esperienza, visione e prospettiva sono sempre utili ai professionisti dell'immobiliare. Francesca Ziernstein, direttore generale di Scenari Immobiliari. Francesca attraverso i numeri ci racconterà il presente, ma anche le tendenze emergenti che guideranno il mercato dei prossimi anni. Massimiliano Dona, avvocato e divulgatore esperto dei diritti dei consumatori, perché è sempre bene guardare il mercato da un altro punto di vista per mantenere una reputazione positiva agli occhi dei clienti. Paolo Ruggeri, che con la sua OSM aiuta i professionisti a diventare imprenditori, mettendo sempre al centro il valore del capitale umano. Mirko Saini, un esperto di LinkedIn straordinario che ti aiuterà a comprendere i benefici derivanti dall'utilizzo di questo social media per posizionarti in modo autorevole sul mercato. Cristoforo Florio, esperto di fiscalità immobiliare che con un linguaggio semplice smonterà almeno tre miti fiscali sempre nella mente dell'agente immobiliare. E per ultimo, ma non per importanza, guiderà l'intera giornata a Rudy Bandiera, un grandissimo professionista della comunicazione che separa dare quella punta di leggerezza e divertimento necessari per un evento che anche quest'anno lascerà il segno. Non perdere l'opportunità di ritrovarci insieme per fare la differenza il prossimo 24 novembre a Roma. Trovi il link nel testo del post. Ci vediamo tra pochi giorni.